In occasione di un compleanno abbiamo l'occasione per ripensare a noi stessi. In rapporto all'anno di fondazione del mattino possiamo domandarci che cos'è un giornale. Un giornale è sicuramente un po' di inchiosto sulla carta o se volete il lavoro sul digitale. Ma il giornale è in primo luogo, oltre a un flusso di informazioni, oltre a notizie, è in primo luogo una piazza, un luogo di incontro dove le persone si manifestano e si fanno riconoscere. È l'opportunità per il presidente della squadra di calcio, per il politico nascente, per il docente universitario, per tutti quelli che esercitano una forma di protagonismo per farsi vedere, per raccontarsi. Sono loro i protagonisti, siete voi i protagonisti, voi i lettori, che dentro a questi 40 anni potete leggere un pezzo della vostra storia. Ciascuno ha un pezzo della propria storia dentro alle pagine, dentro al racconto lungo 40 anni del mattino. Allora il mattino non sta celebrando se stesso, non è il compleanno del mattino, è il compleanno di Padova, della provincia di Padova, di questa comunità. È questa l'occasione per leggere e per interpretare i cambiamenti, i fenomeni, i protagonisti, gli astri che sono trascorsi lungo il nostro orizzonte, un orizzonte appunto di 40 anni. Quindi buon compleanno non solo al mattino, ma alla nostra città.